Non c'è l'accordo per sterilizzare le tariffe dei pedaggi autostradali delle tratte A24 e A25 gestite da strada dei parchi. Dal primo settembre prossimo si tornerà a pagare un aumento del 19% che peserà non poco sui territori attraversati dalle due autostrade. L'accordo sembrava raggiunto durante l'incontro di martedì scorso tra la concessionaria, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Economia. Ma detto ironicamente, i conti sono stati fatti senza l'oste. Perché l'ANAS ieri sera si è opposta alla proposta di utilizzo delle rate del prezzo di concessione, come accaduto già in passato per coprire i costi del blocco delle tariffe in attesa dell'approvazione del nuovo PEF. Per sbloccare una vicenda che sembrava risolta serve un intervento legislativo del Governo nazionale, ma occorre fare presto perché mancano soltanto 20 giorni allo scatto dei rincari. La soluzione è una sola allo stato dei fatti, cioè il congelamento delle rate che strada dei parchi deve pagare ad ANAS, che andrebbe a compensare i mancati introiti derivanti dagli eventuali aumenti fino al 2021, quindi metterebbe in sicurezza il territorio. Pareva una cosa fatta, tanto più che aveva avuto riscontri positivi, anche in ordine alla lettera che ho scritto al MEF il 2 d'agosto proprio proponendo questa strada. Sembra però che ANAS si sia opposta all'accordo diretto richiedendo un intervento normativo. Intervento normativo in realtà che noi abbiamo provato a fare già diverse volte attraverso il Presidente della Regione, Marsilio. Lo aveva fatto già quando era senatore, quindi nella sua attività parlamentare, però il Governo aveva sempre bocciato. Questa eventualità certo è che questo territorio non può sopportare un aumento del 20% dei pedaggi. Questo è chiaro, l'ho ribadito alla concessionaria. Conto sui buoni uffici del MEF e del MIT presso ANAS per chiudere questa partita prima del 1 settembre. Intanto i sindaci dei comuni che da quasi due anni combattono contro il rialzo costante dei pedaggi sono pronti a manifestare se il pericolo del rincaro dal 1 settembre non venisse neutralizzato. E la portavoce, Velia Nazarro, scrive una lettera all'ennesima al Ministro Danilo Toninelli. Grazie.